Buonasera a tutti, sono Luigi, un'altra cosa preferita ancora in penombra, location diversa, sono distrutto, sono le 11 e mezza, sono tornato a casa da lavoro alle 10 e 40, quindi sono presente sul letto, mezzo morto, ma comunque sono qua per l'analisi, dico cult restinto, data per olore la stanchezza sarà divisa in due parti, non so perché ho avuto la benevolenza di mettere gogoltre istinto nella parte 1, quindi non è come al solito che quando faccio in due parti la parte succosa alla fine, no, è diviso tra settimo e sesto universo, avrete in questa prima parte, gogoltre istinto, Jiren e il PG più succosi, e in una seconda parte che uscirà nei prossimi giorni i tour di Kefla, Kaulifla e Kale. Andiamo, iniziamo e vediamo, e si inizia naturalmente con le cose che ci si chiede il motivo di crearle, ovvero C18 Tech del torneo tra gli universi. non c'era motivo di creare un'altra C18, non c'era il motivo di creare questa C18, l'hanno creata molto probabilmente semplicemente per farci pullare i PG inutili, fortuna vuole che ne ho pullata una, quindi non so neanche troppo incavolata sulla sua esistenza, la bacio per chi me lo chiede mi è andata abbastanza bene, gogoltre istinto abiliti 2, Jiren, Kefla Ability 3, quindi non mi lamento, si io ho dato l'Ability, dato che tutti continuate a dirmi che la devo provare, che ad Ability non fa schifo, spero di non aver buttato Orb e Old Kai, lo scoprirò presto, manca poco a portarla pure. Ma torniamo alla nostra C18, 8385 HP, 77640 attacco, 4982 difesa, costo di 27, Kefla, per 300, 285%, per ripeto, un PG, che non ha il senso logico di esistere. Leader skill più 2 ki e stats 50% al suo colore, high tech, che in realtà non è neanche la peggiore delle passive che vedremo oggi, quindi è la peggiore delle leader skill, quindi in realtà per chi inizia può essere quanto meno interessante nel battlefield è accettabile per lo stage di Vegeta Grande Scemi, dato che ormai bisogna pensare anche un attimino al battlefield, quindi le leader skill così iniziano ad essere minimamente interessanti, però non è il massimo. La passive è divisa in tre parti, ormai ci piace fare passive multitasking, il problema è che sta qua non ci riesce proprio a essere multitasking. La prima parte è un attacco di difesa più 50%, stati scheda di attacco penosa, stati scheda difesa semidecente, quindi possiamo almeno dire che un po' difenderà, ma niente di che, dopodiché cambia le orb fisiche in orb tech, e naturalmente qua pensate, ah ok, poi si pomperà con le tech, no, si pompa con le rainbow, del 12% d'attacco. Allora, già il super tech ha bisogno delle rainbow, ha bisogno delle rainbow per Goku Super Saiyan 3 LR, per riuscire a cercare di fare un pochino più di robe, e per Goku Shit, che senza rainbow non esiste praticamente. Ok, la passiva è carina anche per Goku Super Saiyan 3 LR, minimamente decente, ma il PG non ha senso di esistere. Proprio, lasciamo stare, bruttissima, quasi ingiocabile, capisco che per molti potrebbe essere una waifu, ci hanno regalato quella kimono, accontentatevi di like, quantomeno agli inizi è giocabilina. Passi, eh, Link, Android Assault, Twin Terror, Innocent, Battlefield Diva, Infinite Energy, Tournament of Power, categorie attualmente solamente l'Universe Survival Saga, probabilmente però poi uscirà la categoria degli Android ragazzi, ci scommetto Priscilla, è una categoria che avrebbe abbastanza PG, Cell più Android 17, Anirasa, se uscirà e cose simili, quindi spero di vederla, ma anche in quel caso, sto PG di sicuro non è tra quelli che si giocano. è sia farmabile tramite le 100.000 a C18, anche se non c'è ancora una C18 farmabile, quindi è farmabile con i vari ed eventuali pull, la speccia l'aumenta per 61 il 30% della difesa, che l'aiuta a tankare, però niente di che, parte S1, 200,1% 26k, S1, 430%, 44k. PG che, chi come me bene o male colleziona, se lo terrà da parte gli altri, babashop, ma proprio senza pensarci due volte. E poi ragazzi, dopo tre anni e passa, finalmente è successo una cosa che penso ormai da, boh, non so neanche io quanto, un anno e mezzo, due, chiunque giochi stava aspettando, i Goku God sono andati a tour. Ragazzi ormai penso che, uno era palese che andassero a tour con il Dokkan di Goku 300, proprio era di un palese che era metà bust, due, probabilmente nessuno di noi ci credeva più in una cosa simile davvero, io quasi non ci credevo più a il fatto che sono andati a tour, quindi sono piacevolmente colpito. Il primo ad andare a tour è Goku God da GL, che diventa un PG carino, ma non mi è piaciuto come è andato a tour, quindi me. 8820 HP per 8089 attacco, 5400 notti di difesa, costo di 40, Kimeter 200, 12, 142%, Goku God ha sempre avuto questi valori, alla cavolo di cane, ma va bene. Per una versione turca, ok, decisamente superiore alla versione normale, ok, è giocabile in alcuni team incompleti, ma è molto deludente. L'idea skill più 2 key stats, 40% a tutti, l'idea skill per il battlefield, primi stage, ma anche qua siamo davvero male, più 80% tocca di difesa al lancio della special. Ok, sempre come ho detto per C18, il potenziamento che ottiene la difesa è buono, è interessante, è un qualcosa di utile, però l'attacco non è così tanto, cioè... potevano impegnarsi leggermente di più, non si sono impegnati, accontentiamoci di questo, è comunque un PG che ha d'ability alta, può dire qualcosa, non come staple, ecco, non come staple, come non staple, invece, in team magari molto incompleti, un piccolo... una piccola possibilità ce l'ha, dai, non gli tolgo totalmente la possibilità in team non completi. Link, Goldie Power, Shocking Spirit, Super Saiyan, Verena Flash, Kamamiyao, World Warcraft, First Battle, categorie, entra sia in Realm of God che in Universe Survival Saga, in Realm of God non vedo una vera motivazione per giocarlo, dato la mancanza di The First Awakened non è il PG che volete, ragazzi, ve lo dico papale papale, non è assolutamente il PG che volete, in Universe Survival Saga, punto interrogativo, il team è ancora acerbissimo, devono uscire 22 milioni di PG ancora, quindi dubito trovi spazio, però per adesso se lo avete ad ability, giocatelo, cioè attualmente è abbastanza random ancora quel team, anche io, che dovrei avere quasi tutto tranne Top, non so di preciso come giocarlo, ancora a caso, Top è uno dei PG principali ad oggi di quel team, quanto il buffer principale. La sua special ha effetto Kaioken, ha effetto Kaioken, cosa positiva, del 30%, parte S1, 220%, 25k, e S10, 400%, 45k, boost del 30% a special, non male c'è di meglio. Build consigliata, 15 critico, 11 additional, classica build degli agelle che non far danno, non mirate troppo all'effetto Kaioken, difficilmente starà in qualsiasi modo in tornazione. Evoluzione, questa è Sara che ha la schiena distrutta, cerca di rimanere in vita, almeno te. Carino, ma c'è di meglio, peccato, peccato, abbiamo aspettato anni per un risultato meh, così così. E come la GL è andato a tour, ci ha andato anche l'STR, qua, ci siamo un pochino messi meglio. Anche questo, niente eccezionale, mi ha aspettato un pochino di più, ma decisamente, già, un'evoluzione positiva con un solo malus, diciamo. 10.997 HP, 8.344 attacco, 3.420 di difesa, costo di 40, chi mette a 300, 12, 140% per una versione migliorata della GL, ragazzi. Nonostante abbia meno difesa, si sente abbastanza la difesa in meno, e abbia quel piccolo 2%, quasi irrilevante, di potenziamento in meno, risulta un PG totalmente migliore. E vedremo perché. Ok, leader skill, stessa uguale, due ki, 40% a tutti, passivo uguale, 80% attacco di difesa alla special. La cosa che lo migliora, sono i link, ovvero Godly Power, Shocking Speed, Super Saiyan, Venom Flash, Fear of Gods, The First Awakened, Fiasmattor. Ah, The First Awakened, ragazzi, e per chi non lo sapesse, The First Awakened è uno dei pochi link, 25% l'attacco, se non erro, è un 25%, eh sì, è un 25% l'attacco. Che, guarda caso, linka con Goku, ultraistinto. Tanta, tanta roba, 25% l'attacco è tanto, però, ragazzi, qua c'è un piccolo problema. Non è detto che questo PG, nonostante sia il best buffer di Goku ultraistinto, verrà giocato nel team. E questo non perché lui è un PG brutto, eh. sia chiaro, lui come PG ci sta, non fa da anni della madonna, eh, però, nessuno gli richiede. In totale è un PG decente. Il problema è che il bust che dà del 25% a Goku, più gli altri link, dà un bust importante, non per forza è quello che serve. Eh, ci sono altri PG, come vedremo nell'analisi del team, che possono dare un bust al team decisamente superiore. Per il resto è solo Realm of Gods, quindi non può essere giocato in Universo Survival Saga. Questo è un piccolo problema, in quanto fa mancare un first awaken a quel team che comunque deve giocare di Goku ultraistinto. Cioè, non si può fare a meno, dato che ad oggi è il suo PG più performante. Però, vedremo anche per questo, in futuro, come ci si comporta. La sua special aumenta d'acqua di difesa del 30% per 3 turni, quindi non ha effetto Kaioken. Però è comunque, quantomeno, decente e parte, dove cavolo sei? Ecco qua. S1, 220%, 25k, S10, 400%, 46k. Anche lui è sia farmabile tramite i Coco Super Saiyan, fisici, l'evento Battle of God. Bill consigliata, 20 critico. Ragazzi, è un'ottima evoluzione. Mi sarei aspettato qualcosina in più per renderlo sicuramente stable. Arrivo a fare dei danni importanti, questo non lo nego. Però, forse non saranno abbastanza, devo ancora fare i calcoli precisi. Ma oggi un Weezy Int, penso faccia un generi più danno rispetto a lui. Peccato però, e di sicuro per team incompleti, è tutto quanto un ottimo, ottimo PG. Meglio di nulla, dai. E per la serie mi ero completamente dimenticato della sua esistenza, ho dovuto mettere in pausa la registrazione. Cioè, ho dovuto interrompere il fatto che registravo, andarmi a fare la sua scheda, perché non mi ero minimamente ricordato che esisteva, abbiamo Goku Super Saiyan Blue STR. PG è dimenticabilissimo e quindi lascia perdere, no, a parte gli scherzi. Evoluzione del Goku Blue STR, ok. 9.786 HP, 7.934 attacco, 4.537 difesa, costo di 40, chi mette a 300, 12, 140 per cento. Per un PG che alla fin fine non è che... c'è un motivo per cui mi ero dimenticato la sua esistenza. Non perché fa schifo, non perché fa schifo, ma perché lo reputo abbastanza inutile. Cioè, quel PG aveva ottime potenzialità, Goku Gold STR, e questo lo pensava anche Feliciano e anche altre persone con cui ho parlato, Attura aveva tante possibilità. Quale gliela andate, ma solo per la modalità Super Battle Road, in cui comunque, salvo avere l'Ability Full, non è proprio l'idea migliore di giocarlo. Perché dico questo? Andiamo a vedere un attimino. Leader Skill, meh, più 3 chi attacco e difesa 50 per cento, può essere carina per chi inizia, ma chi inizia non riesce a portarlo a tour, ragazzi. L'evento di Goku Ultra Instinct, per quanto alcuni possono dire che è facile, non è facile per tutti. Assolutamente, molte persone le buscano a sangue in quell'evento. Quindi, no, non è proprio una leader alla portata di tutti, siamo sinceri. La passiva è un più 90 per cento attacco e difesa contro un solo nemico, quindi è comunque un boost importante, soprattutto la difesa, è quasi un per due la difesa che schifo non fa, a cui va aggiunto un ulteriore 50 per cento d'attacco quando ci sono due o più nemici. Allora, sulla carta un 140 per cento d'attacco, suona benissimo, ragazzi, ripete con me, 150 per cento, anzi 140 per cento d'attacco. Suona bene, il problema è che due nemici non li avrete contro mai, se non è la ROAD. E nella ROAD sto ROAD ha bisogno di abiliti molto alta, o viene obliterato e non fa un cavolo di danni. Quindi, è comunque una situazione abbastanza tragicomica. Link, Super Saiyan, Sam, World of Race, World of Gods, KMMA, Profile Battle, Sam, Lineage, First Battle. Appartiene alla categoria Realm of Gods, in cui però deve combattere con altri 50, più o meno, Goku Blue, tra cui gli AGL. E quindi non vedrà mai la luce. La sua special non ha neanche effetti secondari, parte da S1, 25 per cento, 27k, 16, 430, 47k, farmabile una volta ogni morte di Papa, quando danno i Goku Blue fisici al Babashop. Li hanno appena dati, quindi dubito sarà farmabile per parecchio. Ma non ne vale la pena, la build è consigliata il full critico. Però ragazzi, a meno che non sia il vostro PG preferito e lo voglia assolutamente sia 10 abiliti full, lasciatelo perdere. Non è neanche in realtà pista batch, quindi felicità. Io forse ne avrò di sto roba quanti. Credo due, ma molto credo. Non ne sono neanche totalmente sicuro di averne due. Uno ce l'ho di sicuro perché mi ricordo di averlo visto nel box prima. Forse ne ho due, ma rimarrà la livello 1 per tanto tempo. Peccato. Tante piccole occasioni sprecate sta baccia. E parlando di occasioni sprecate, per fortuna non è così per Jiren. Appena è stato annunciato Jiren, io e molti altri ne eravamo un po' preoccupati. Perché hanno annunciato un PG, non in Dokkan Fest, quindi che non va a tour. Come Jiren è buttato un po' così. Cioè, ok, fate prima la versione SSR, poi ne fate uscire un altro che va a tour. Però comunque è buttato. Poi esce la baccia e con mia somma sorpresa si legge che Jiren è esclusiva Dokkan Festival. E quindi semplicemente seguirà lo stesso identico eater di Goku Ultraistinto. Ovvero esce, dopodiché nei secoli dei secoli va a tour con un Dokkan Event in un secondo momento. Cosa che ci può stare come ci può non stare. È una scelta abbastanza così, ma ci può stare in quale ottica. Nell'ottica, cavolo, esce un nuovo Dokkan Fest. È inutile mettere un Dokkan Fest come unico PG esclusivo. Goku Ultraistinto, che è un PG comunque che in molti hanno già. Mettiamo anche Jiren, così la gente deve trovare anche lui. Io me ne sono uscito con un Jiren, lo sto iniziando a provare. È carino, ma aspettiamo la formatura per vedere quanto può diventare forte. ha tanta potenzialità. 7.635 HP, 9.170 attacco, 5.283 di difesa. Stazzalte, se non fosse per gli HP, un po' bassini. Per un 40 di costo è chi metter 300, 12, 150%. È già 150% così. Piccolino, Jiren. Non è piccolino, proprio. Almeno su questo l'hanno fatto abbastanza simile all'originale. Leader Skill, quella che penso chiunque avesse ormai capito che avrebbe avuto, ovvero Class Leader del Universe Survival Arc, più 2 ki stats 120%, ed anche gli STR 2 ki e 40%. Scordatevi se quando andrà a tour di mettere Goku Super Saiyan 4 nel team, perché farà cagare. Non ha ancora fatto uscire un team in cui si può giocare quel PG. Passiva, che è divisa in due parti, la cui prima parte ci sta, più o meno è quella che pensavo avesse un Jiren pullable. La seconda parte, invece, è una sorpresa abbastanza grande che non reputo una cosa positiva, però, eh. Ovvero, la prima parte è attacco e difesa al 120%, è tantissimo. Cioè, un attacco e difesa al 120% è davvero tanto, tanto, tanto. Abbastanza importante. Trova da ability free, raggiunge comunque un buon 700.000 di danno, 800.000 di danno, che schifo di sicuro non fa. La seconda parte che mi ha lasciato perplesso è i media chance di stannare tutti. Dovrebbe essere all'ingir con 33%. Ora, perché mi lascia perplesso? Perché benché nella ROAD sia immensa, cioè ormai hanno reso la ROAD con Super STR e la ROAD facilissima. Questo PG l'ha facilito ulteriormente, lo si mette al posto di un buffer inutile, ti tankeggia e fa anche il suo porco comodo. Quello che mi perplime un po' è che comunque negli eventi è stato diventato inutile. Battlefield non li puoi stannare, ESA non li puoi stannare, Dock and Emet Normale ormai non li puoi stannare, quindi un pochino mi puzza. È vero che probabilmente Atura avrà la meccanica power up, non me la sento più di chiamarla trasformazione dopo l'annuncio di Tarnes, ve lo dico, perché Tarnes non si trasforma, ma esegue un power up, quindi la chiamerò meccanica power up, che lo fa andare in quella, tra virgolette, forma, petto nudo, mega incazzato, con le vene, però voglio vedere come si evolve. Per ora gran, gran PG, grandissima SSR, perché SSR è davvero forte, però non mi soddisfa, non mi soddisfa. Link, altro problema, cold judgment, shocking speed, infighted or justy, tournament of power, godly power, benché abbia godly power con un buon 15% con un buon 3 instinct, poi non ha più un cavolo, dovrebbe linkare con Toppo, appena uscirà Toppo, scusate la stanchezza, appena uscirà Toppo della distruzione, probabilmente avrà un minimo senso di esistere, sino ad allora lascia abbastanza il tempo che trova, purtroppo, andrà a vedere un pochino come si evolve. Si gioca il Realm of God in Universal Survival Dark, in Realm lo sto provando per capire se è fisso lui, ho fisso Goku Ultraistinto e Goku God STR, ancora ragazzi non ho una vera e propria risposta, dovrò provare per bene fare bei calcoli, in Universal Survival Saga è il leader, quindi lo si gioca. La sua special riduce di molto la difesa avversaria, solita roba, e parte da S1, 280%, 38k, fino ad un SADH, 505%, 69k, proprio un PG di Dokkan Fest, chiaro e pulito, non male, non male Girendai, poteva essere meglio, poteva assolutamente essere meglio, però non lamentiamoci eccessivamente, di sicuro un gran PG, chiunque l'ho pullato, non sarà assolutamente triste. ed eccoci infine al momento tanto atteso da tutti voi, mentre si fa sempre più scuro intorno a me, ovvero Goku Ultraistinto Tour, dalle premesse che aveva il PG recentemente, si poteva pensare che sarebbe stato il miglior PG del gioco a mani basse, proprio una bestia assoluta, inequivocabilmente il migliore, miglior DPS, miglior tank, miglior tutto, purtroppo non è così, purtroppo non è così, il PG è carino, è carino, è carino, necessita di abilità, di abilità, necessita almeno abilità 1, ad abilità free, a mio avviso perde abbastanza, infatti io mi arrivavo a trovare l'Ability 1, e poi ho cercato di portare giri nell'Ability 1, ho finito per averlo l'Ability 2, però non mi lamento, ci sta, però potevano farlo meglio, alcune criticità che sto già vedendo, non avendolo ancora portato a tour, che andremo a analizzare insieme, criticità abbastanza negative, però è un classico PG con meccanica power up, allora abbiamo 10.335 HP per 11.654 attacco, bella alta, 5.890 di difesa, per un costo di 58, chi metter 200, 12, 150%, per finalmente il class leader di Realm of God, più 3 chi sta a 150%, e poi prima nota molto dolente a mio avviso, più 50% agli Inter, allora perché nota dolente? Ora posso capire che ormai il team Superint è andato fuori ogni canone, cioè il team Superint ormai completo, è una cosa che non sta né in cielo né in terra, gioca a tutti i PG che hanno un livello di potenza superiore, a Gogeta Super Saiyan praticamente, che era il miglior PG del gioco fino a non molto tempo fa, cioè un team che non sta né in cielo né in terra, lo vedrete, ho la fortuna di averlo, in realtà forse si gioca a Pandel, quindi non completo, però ce l'ho, ce l'ho, quindi ci divertiremo parecchio a vedere quanto può essere sbagliato un team simile, diciamo, posso capire che due dei class leader, sono usciti tre class leader Int, di cui due hanno leadership il 90% agli Inter, quindi dare il 90% anche a lui era esagerato, inoltre il 90% mi pare lo stiano dando prevalentemente a quelli che hanno 170%, in qualche caratteristica, d'altro canto hai limitato tanto la categoria col 50%, cioè salvo rarissimi casi, se hai il 50% di boost a un colore, non giochi PC di quel colore, è persa poco inutile, serve a chi non ha i team completi, Goku Tracing si è bloccato per essere di avere Bardak, io l'ho sempre sperato avesse un 70%, mi sarei accontentato del 70% per giocare Bardak, Bardak avrebbe dato un boost assurdo a Goku, e andava alla perfezione con quello che pensavo fosse Goku Tracing Catturo, ovvero un QG senza power up. Ora invece non è così, Bardak è prestato poco in giocabile, salvo in team incompleti, e il God of Dimension deve giocare su Buffer come Whis o Toppo al massimo, che non sono proprio il massimo, su Toppo non penso sia giocabile, ci si mette piuttosto un bel DPS, ma ne parleremo più avanti. La passiva a mio avviso è una seconda carenza del PG, in quanto nonostante il PG sia forte, perché ragazzi è innegabile, il PG è forte, fa danno, picchia, una special bellissima, però la passiva è abbastanza deludente. Avevamo Goku 3 Instinct, che aveva una di quelle passive che ci sono voluti minuti, 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 tra me Blasi e Feliciano in hangout, per studiarcela, capire come funzionava, l'abbiamo trovato in 13 modi diversi, e tutto. Prendete quella passiva e buttatela nel cesso. Goku 3 Instinct perdi tutta quella passiva, diventando invece un attacco e difeso più 100%, sotto il 50% degli HP, si evolve, si potenzia. Ora, ok facilitare, però non è che sia un tosto granché, anche perché c'è un problema, a mio avviso, abbastanza tosto. Sotto il 5% di HP non ci scendete. Io ho farmato oggi 5 volte Veget Blue Tech, perché per fare un video di Veget, di Goku 3 Instinct, dovevo portare a Tour Trunks Rage, e che ho portato Ability 2, quindi me lo sono maxato in Ability 2, la GS a 10, e ragazzi, io ho utilizzato per 3 run, un God of the Dimension completo, un Realm of God completo, comprò un Goku Tour Amico, e il mio Goku Ultra Instinct, SSR Ability 2. Cioè, crederci, non sono mai scelto tutto il 5% di HP, mai. In un modo o nell'altro, anche se mi facevano 120-130 mila danni, io li recuperavo tutti. Ora, posso capire che se non hai il Team completo, il PG è molto più forte di quanto stia parlando in questo video. Però, non puoi fare un altro PG che ha sto cavolo di problemi dei Power Up. Se voi fate i Power Up, meno HP, ci sono poi, se hai pochi HP si attiva, come è stato per Gogeta, LR, Vegetta LR, e come per Goku Ultra Instinct, poi ci sono questi problemi. Ovvero, più il Team è forte, meno volte vedrai il PG trasformato. E mentre Gogeta e Vegetta comunque sono delle bestie assassine, lui è una bestie assassina prevalentemente in difesa. In attacco non è che sia chissà cosa, lui Ability 2 fa quasi gli stessi danni, ha quasi lo stesso attacco di un Rosé Ability Free. Vegetta LR genera un attacco 100 volte superiore, Rosé LR naturalmente, genera un attacco parecchio superiore. Quindi, già non lo metteremo in rotazione in entrambe. I Dai anche questo, c'hai dei problemi. I Link sono Cameraman e Aprepere for Battle, Ovenina Flash, Godly Power, Forment of Power, The First Awakened, First Battle, i Link non hanno problemi. Ha parecchi Link, chi ha buoni Link di Power Up, benché The First Awakened manca un PG davvero decente con The First Awakened. Vedremo in futuro, probabilmente uscirà. Magari Toppo, anche se non penso, non vedo il senso di The First Awakened. Vegetta Blue, Vegetta Blue invece Evolution, spero abbia The First Awakened, in quanto è il primo a raggiungere quello stato, ci starebbe. Vedremo. Categorie Universo Valve Alark, Realm of God, la sua special ha effetto Kaioken. Nel momento naturalmente in cui scende sotto il 50% all'inizio del turno, il PG ha il Power Up, e da PG molto a me diventa invece un PG con i controcoglioni. Parliamo infatti di Goku Ultra Istinto Omen. Omen. Allora, Ultra Instinto Masterhead. Ecco, Goku Ultra Instinto Masterhead, a differenza dell'Omen Tour, è davvero grosso. Come danni ne farà molti di più, farà molti più danni, è un PG davvero grosso e tutto quanto, ha un punto debole, un grosso punto debole che è difficile che sia letale, ma è da ricordarsi che ce l'ha. Ovvero, la passiva cambia, la passiva diventa più 3 chi attacco 150% all'inizio turno, quindi un buon 50% in più di attacco, più 3 chi per essere sicuri di essere in perma special sempre, e poi seconda parte 70% di evadere qualsiasi attacco nemico e infine blocca la guardia, toglie la guardia avversaria. Toglie la guardia avversaria, a oggi almeno, non ha tutta questa utilità che potrebbe dare, scusatemi, sto crollando parecchio, non ha tutta questa utilità, però il 70% di evasione naturalmente sì. Quello 70% di evasione però è in parte un modo per nascondere la sua debolezza, ovvero non avere boost difensivi. Sto robo, se si becca un pugno in un evento, nella ROAD, nel Battlefield, nell'ESA, le busca sangue. Cioè, avete quel 30% di possibilità in cui però le busca tanto, cioè vi fa ricordare il fatto che non ha evaso. Mentre il tour, ragazzi, per quanto, offensivamente parlando, sia abbastanza sotto tono, tanka, tanka davvero bene, davvero tanto, è un buon tank. Lui perde, perde totalmente il tank. I link sono gli stessi, che abbiamo visto prima, la special, idem. Per l'esattezza abbiamo una special che parte da S1, 25%, 43k, fino a S10, 475%, 83k, per via del fatto che ha il 30% di boost. Bel PG, non barato, assolutamente non è il migliore del gioco, ma per niente, devo vedere quante possibilità ha di trasformarsi in team completo. Temo poche, temo poche, proverò a boss rush, uscirà nei video, e tutto quanto. Se non si trasforma, crolla, forse vicino alla decima posizione dei PG migliori del gioco, cioè probabilmente esce dalla top 5. Se invece c'è un buon potenziale di trasformarsi, ci entra senza alcun problema, perché sta a percentuale di evasione è tanto. Ovviamente ragazzi, se avete team più scarsi, non gli ci vuole nulla a trasformare, a farvi vincere, però, dobbiamo sempre vedere i team al loro massimale, che poi massimale tanto non è. Il mio Godly Dimension è tutto ability free, tranne con Ultra Instinct, quindi, qualche piccola cosa che non va sul team totalmente ability free, non scende sotto il 100%, ci deve essere. Quindi, questo è l'LPG, buono, buildatelo, 15 critico, 6 additional, 5 evasione, inutile dagli evasioni, se tante vade, e non vi repentirete, davvero un buon PG. Infine, due parole sulla Batch, la Batch la consiglio a tutti coloro che vogliono farsi il Realm of God, naturalmente, ma soprattutto a tutti coloro che vogliono fare l'Universal Survival Arc, in quanto è una Batch che è più per quest'ultimo team che per il Realm of God. Jiren tornerà di sicuro, non sappiamo tra quanto, temo che sia lui che Goku siano PG limited di determinati Dokkan Fest che escono ogni tot di mese riguardanti Super, quindi, ci potrebbe volere davvero tanto tempo per che vi torni Goku al 300 Master, tipo io penso che se escono i ticket è uno dei PG fuori dei ticket di sicuro, quindi se lo volete vi consiglio di pullare, i Raid sono buoni, 0.7%, solite 700 stone, io in poco meno di 700 ne ho trovato i 3, per farvi capire, quindi i Raid non sono malvagi, sono di qualcuno che con 2600 stone ne ha trovato uno, però se portavo fu l'Abbile di Jiren, dannato, potevamo fare a cambio, io ti davo una K, frate mi davo un Jiren, però vabbè, va bene così, e nient'altro, la Batch è abbastanza buona, consiglio tutti di pullare, pullato il numero di stone adeguato, free to play, potete in realtà anche saltarla, perché free to play, non so se sono tutti i PC del Reign of God, delfini, 400 stone sono più che sufficienti, balene, vedete di portarvi Jiren almeno ad Ability 2, poi potete abbandonarla, detto questo, grazie di avermi seguito, io finalmente posso andare a letto, ma in realtà non è vero, perché devo montare e caricare il video, quindi in realtà sti cazzi che vado a letto, e noi ci vediamo in prossimi giorni, perché devo uscire una marea di video, perché devo uscire tutte le run, la seconda parte dell'analisi, l'analisi dei PC free to play, l'analisi di Golden Angel, l'analisi dell'ESA, un giorno forse uscirà l'analisi dei PC del Torno del Potere, quella vecchia, ma dovuto fortemente a questo punto che esca, noi quindi ci vediamo alla prossima, e buona serata ragazzi, in bocca al lupo e buoni pull.